Convegni, stage formativi, musica e buon cibo, ma soprattutto salute, benessere e lunghe camminate. Sarà tutto questo la sesta edizione del Roccella Fit Walking dal 26 al 29 luglio. Alla cittadella regionale a Catanzaro la presentazione dell'evento. La Regione Calabria crede in questa iniziativa e non ha soltanto dato il patrocinio, ma per la prima volta ha dato anche un contributo finanziario. Questo perché si adastimola ancora di più a che questo evento ogni anno maggiormente cresca all'interno della Regione. Sono stati oltre 2.500 gli iscritti alla famosa camminata non competitiva della passata edizione. Numeri che incoraggiano gli organizzatori, pronti ad aprire le porte del villaggio presso il largo Rite Levi Montalcini, dove sarà possibile anche fare prevenzione. La Roccella è nuovamente tempo di benessere. Sì, quest'anno l'abbiamo proprio voluto accognare così perché con la collaborazione con la Com in Italia sarà presente le carovane della prevenzione che stanno facendo il giro d'Italia per portare prevenzione direttamente ai cittadini. Quindi sarà possibile fare radiografie, mammografie, ecografie al seno, visite ginecologiche, si potrà fare la mappatura dei nei, si potrà fare il controllo della vista. La seconda manifestazione in tutta Italia come manifestazione di Fitty Walking, io dico, mi permetto di dirlo, dal punto di vista estetico credo che sia anche la più bella perché abbiamo un panorama, abbiamo un ambiente che è fantastico e quindi le persone animano questo ambiente. Rossella Galati per la Cineus 24